Ho sempre avuto preferenza per le cose semplici. La storia di Frankie Fredericks mi ha sempre affascinato. Fin dal primo viaggio in Namibia ho capito che le cose degli uomini rimangono spesso legate ai paesaggi della loro infanzia, che spesso ci rimangono dentro e ci influenzano la vita dovunque siamo. Ci girano dentro ed emergono all'improvviso a determinarci gli esiti dei nostri gesti. Ci vengono fuori come funghi. Frankie Fredericks disputò la sua prima olimpiade nel 1992, dopo che la Namibia divenne una nazione indipendente. Vinse due medaglie d'argento, arrivò secondo sia nei 100 che nei 200 metri. Sembra che il mondo ci abbia dimenticati. Vero è che quando qualcuno arriva, il tempo che Fredericks fece segnare nella finale di 200 metri di Talanta, che era allora l'esperienza di molti anni, battuto solo da Johnson, volevo andare nei luoghi di Fredericks, immergermi nella successiva olimpiade nella sua sua stessa, quella del 2000 a Sydney. Eppure io, Frankie Fredericks, costretto a saltarla, volevo registrare la mia immagine contro quelli freschi. Oggi mai, volevo luciare una sorta di emblema di me, turista negli spazi della mente di qualcun'altro. Nell'inseguire quei lontani misteri di cui sogniamo, o nella caccia tormentosa di quel fantasma demoniaco, che prima o poi nuota davanti a tutti i cuori umani, durante la caccia di tali cose, esse o ci conducono in vuoti labirinti, o ci lasciano sommersi a metastradi. La scena emisferica. La scena emisferica. La scena emisferica.